e finisce così la partita al Califa International Stadium di Doha la Croazia batte 2 a 1 il Marocco e si porta a casa e vince questa finalina di terzo e quarto posto dopo il 2018 in cui è arrivata seconda la Croazia mondiale successivo 2022 Qatar 2022 arriva terza e il Marocco complimenti anche al Marocco che arriva quarta per una squadra faccio i complimenti a entrambe le squadre anche al Marocco che era la cenerentola di questo mondiale a sorpresa la davano tutti per spacciata e invece il Marocco sorprende addirittura non solo va avanti nei gironi ma butta fuori anche il Portogallo butta fuori chiunque gli passa avanti la Spagna e se ne vola e se ne vola comunque arriva quarta in questo mondiale fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento ciao ragazzi e bentorni in questo video qui a Giapets oggi siamo qui ragazzi un nuovo video appunto qui nel Giapets Commentary per commentare il post partita di Croazia Marocco e finisce il risultato di 2 a 1 la Croazia che vince con le reti di Gavardiol poi pareggia Dari e poi al 42esimo la porta sul 2 a 1 il grande gol di Orsic fatemi sapere la vostra insomma con un mi piace se avete visto la partita ovviamente un pollice in su per supportare il canale ragazzi perché sono stato fermo per una settimana quindi per un periodo di 7 giorni sono stato in attivo su Youtube per colpa diciamo per vari problemi soprattutto legato a Youtube non sono riuscito a provvedere ho parlato anche con l'assistenza non mi hanno aiutato non mi hanno cercato di dare un aiuto importante non mi è arrivato e quindi sono rimasto in attivo per una settimana oggi stamattina è uscito il video dedicato al mio omaggio il mio tributo appunto dato per Mialovic se non l'avete visto il video potete recuperarvelo ve lo lascio qua sopra nelle schede a fine video parliamo della partita di quello che è stato oggi vi ricordo di seguirmi su tutti quanti i social sono stato in live sulla piattaforma Viola quindi se mi volete vedere sempre in live da adesso in poi faccio questo annuncio le live saranno sempre sulla piattaforma Viola per lo meno per tre mesi sicuri non farò più live su Youtube per tre mesi perché basta nel senso c'ho un po' discusso e quindi con questa piattaforma per lo meno per quanto riguarda le live le farò per i prossimi tre mesi fino a marzo le farò sulla piattaforma Viola quindi sarò molto attivo sulla piattaforma Viola quindi vi ricordo di seguirmi anche lì nel mio Jabioz TV seguitemi anche lì trovate il link qua sotto in descrizione e seguitemi anche su Instagram che vediamo sempre aggiornati quando ci sono dei problemi legati a Youtube o quando vado in live sull'altra piattaforma parliamo della partita e quello che è stato allora praticamente la partita inizia subito con un gol da una parte e un gol dall'altra al nono minuto già stavano uno a uno segna al 7 minuto Gavardiol ragazzi secondo me il miglior difensore di questi mondiali a mio modo di vedere il miglior difensore centrale di questo mondiale Qatar 2022 uno dei migliori difensori insieme a Ternandez secondo me i migliori difensori del mondiale lui il miglior centrale e Ternandez il miglior terzino a mio modo di vedere e quindi vanno fatti i complimenti alla Croazia di Dalic perché comunque ha messo sotto una Croazia comunque con tanti giocatori esperti con giocatori di esperienza come Kramaric come Modric come Perisic che oggi ha giocato da terzino perché ha fatto un po' di turno e la Croazia ha giocato ha giocato Sutalo ha giocato Stranic ha giocato Orsic ha giocato Maier che non sono sulla carta di Dolari ma comunque la Croazia riesce a spuntarla vi ricordo che mancava Brozovic quindi la Croazia che ha giocato con questo 4-2-3-1 perché mancava appunto Brozovic mentre il Marocco che ha fatto la sua solita ottima partita magari qualche errorino in fase difensiva quello sì mi aspettavo di più sinceramente dal Marocco per quanto riguarda la fase difensiva però comunque il gol del Marocco lo fa Dari che tra l'altro non è neanche il titolare sulla carta perché i titolari sono Saïs e non mi ricordo l'altro però sono entrambi in Fortuna e Agure Aguered che sono entrambi stavano in panchina ma perché non stavano al massimo della condizione fisica e quindi hanno giocato due altri due centrali sempre un altro ottimo Akimi complimenti anche ad Ambarabat che secondo me è stato uno dei migliori centrocampisti di questo mondiale tra l'altro tante squadre big d'Europa si sono fatte sotto diciamo la partita finisce un po' nel primo tempo 1-1 poi appena inizia il secondo tempo al 42esimo arriva il gol di Orsic ragazzi il super gol di Orsic che condanna appunto il Marocco alla sconfitta ma faccio complimenti perché la partita è stata bella viva nel gioco ci sono state azioni da parte della Croazia e del Marocco che poteva tranquillamente anche pareggiarle e portare i supplementari comunque la Croazia che fa praticamente 12 tiri 4 in porta 2 gol il Marocco 9 tiri 2 in porta 1 gol diciamo che comunque i suoi pericoli li ha creati però diciamo che l'ha spuntata la Croazia la squadra più esperta l'ha spuntata fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento sono contento perché comunque mi fa sempre piacere quando una squadra speravo nel Marocco arrivasse più in fondo possibile però comunque arrivata fino a a giocarsi la finale terzo e quarto posto non è da tutti ricordo che tante squadre sono uscite prima ai gironi o agli ottavi tipo la Spagna uscita è uscita la Germania sono uscite tante squadre top il Portogallo e il Marocco che continua ad andare avanti quindi faccio i complimenti anche al Marocco di Gargui come si chiama l'allenatore Gargui no Regragui Regragui molto giovane comunque fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento io mi dispiace un po' per il Marocco un po' amareggiato però mi va bene anche se la Croazia è una squadra che mi sta simpatica quindi non mi dispiace che sia arrivata comunque terza e quarto il Marocco sono soddisfatto così vedremo domani sempre sulla piattaforma Viola vi aspetto poi farò un post nella community sempre alle ore 16 sulla piattaforma Viola per seguire insieme Argentina Francia finale del Mondiale Cata 2022 ci vediamo domani e qui su Youtube ci sarà appunto il post partita niente da già per se è tutto recuperate il video i video ultimi di tosate qua sotto ma riscate a fine video da già per se è tutto bella vamos baci ciao ragazzi bella sempre forza il calcio